Aramis EQ Camel, le grandi marche, conferenza di moda. Vedere per le donne cose belle e accessibili è difficile. Invece EQ? Invece EQ sì, ha immagine, stile, qualità e... E poi? E poi, Miss EQ cavalca la moda. Ti piacciono eh le camicette EQ? EQ, elegante e semplice. EQ, per lei che cavalca la moda. EQ, per lei che cavalca la moda.